I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, insieme al personale del nucleo antisofisticazione e sanità e con la collaborazione dei militari della compagnia di intervento operativo, hanno effettuato una serie di controlli volti a contrastare le violazioni igienico-sanitarie nei supermercati della città. Durante tali controlli è stata denunciata una persona di 57 anni di paternò per tentata frode in commercio. In particolare i militari sono intervenuti in un discount che dispone di un reparto per la preparazione di pietanze già cotte, destinate al consumo a domicilio da parte dei clienti. Durante l'ispezione negli spazi dietro al negozio i carabinieri hanno scoperto che la carne utilizzata per i preparati era scaduta da alcuni giorni. In altre parole i prodotti in vendita, destinati al consumo umano, erano stati cucinati con carne deteriorata. Quasi due chili di carne sono stati sequestrati e il titolare della ditta di produzione di carne che forniva il supermercato, nonché responsabile del reparto, è stato denunciato penalmente per tentata frode in commercio.